Comeriggio video non pensato, io stamattina prima di andare al lavoro sono andata in un negozio di intimo che devo acquistare dei pigiami di cotone, sia per me sia per mio marito, altre cose perciò ho pensato, siccome qualcuno mi ha detto, una certa che era Lucrezia, diciamo è da tanto che non fai video shopping, io allora video shopping di abilamento è da moltissimo che non compro niente, non sono uscita, poi qua è stata zona rossa, anche diciamo a Giare non mi sono fermata però oggi necessitavo di cose, di giomeria e cose varie, ho detto avanti ci faccio un video diverso poi comunque dovrò comprare qualche mallettina di cotone, diciamo per questo periodo primaverile perché sono accorto di cose, perché molte si sono rovinate, invecchiate e le ho gettate perciò prossimamente sicuramente vi farò un video abbigliamento per ora accontentatevi di questo allora ho preso che ero in offerta un set di lenzuola matrimoniali sempre di cotone, misto cotone, non so, questi qua, c'erano varie fantasie, a me è piaciuta questa c'era anche la fantasia rosa, però poi alla fine ho scelto questa, anche se quella era bellissima questa qua questa allora, ci sarebbe la parte la prima parte e la seconda parte, credo che questa sia la parte dove poi uno avvolge il lenzuolo questo qua così sul bianco panna e blu e sono costati 10 euro veramente spero che non siano piccoli poi ho preso i rizzami uno per me e uno per me veramente ne dovevo prendere due a testa ma siccome ho preso altre cose ho evitato e allora è del marchio Irge Irge di Intimo allora questi sono di mio marito questo pijama l'ho preso nella colorazione per cambiare il grigio la L la M non c'era è finita perciò gli ho preso la L tanto comunque il pijama deve stare comodo non è che se ne deve andare in giro anche se mi diciamo prende la L però diciamo ne l'ho voluto prendere perché ne aveva troppo di bisogno così e questi sono costati 12 euro questa è la parte dei pantaloni un grigio più chiaro questi qua niente, ora li sistemo certo la M ci stava perfetta questo gli starà un pochettino più grande ma vabbè poi la sistemo meglio vi faccio vedere il mio questo qua è proprio quello in foto così proprio blu con l'ancora molto carina con il disegno dell'ancora vediamo è questo nella foto in caso ve lo esco che ora si si rovina magari non ve lo esco del tutto va perché allora per fissamarlo comunque è questo questa è la parte della maglia con l'ancora che cosa mi è caduto e poi c'è la parte dei pantaloni che sono molto semplici una carta da foto e sono costati sia quelli di lui 12 euro e anche questo questo è molto bello con l'ancora mi piace un tanto ho preso nella versione blu perché mi pare che sarà anche di altri colori anche troppo chiaro ma non troppo chiaro non mi andava e niente questi sono i pigiami poi ho preso vabbè una cannottiera da mettere sotto le cose io le consumo tante questo qua nera rosso popora ed è nera è sedile poi ho preso dei calzini fantasmini per mio marito che li consuma tantissimo c'erano anche della versione mistocolori bianco è un altro colore però a me i calzini bianchi non mi piacciono perciò li ho presi tutti così della superga e poi ho preso degli slipini brasiliani per me queste qua che c'è scritto finiture invisibili non lo so sono di vari colori non sono un'unica tinta sono costati 5 euro e 90 mi devo uscire le mutandine mi sembra il caso però sono c'è anche questo questa fantasia altre fantasie più chiare e poi mi serviva anche una tovaglietta per la colazione pastificata ma non ne avevo niente c'era l'offerta dei rogiseni che costavano 5 4 euro e 99 mi pare 4 5 euro del marchio in fiore questo lo compravo tanto tempo fa il marchio in fiore anche a mercato e una volta tanto tempo fa lo rappresentava Anna Fatti e ho preso la terza perché questi vestono un po' piccolo e questo è il beguai si può dare c'era sono in questa colorazione in base alla misura blu molto bellino tipo col pizzo tipo una specie di bralette posso omigliare una specie di bralette molto elegantina questo conveniva prenderlo perché diciamo i prezzi erano un po' stracciati per diciamo per il prodotto per la qualità del prodotto e niente questo è tutto esterno le mie piccole cose di lingerie piccoli acquisti di intimo presto magari vi farò un video di appigliamento sicuro perché vi devo comprare qualcosa allora niente il video finisce qui solo 7 minuti molto veloce io ancora vi devo girare il video dei prodotti finiti dei detersivi perché già oggi siamo al 30 di aprile in questi giorni lo girerò tra sabato e domenica va bene vi abbraccio tutti e alla prossima e grazie per tutti i nuovi iscritti e quelli che ancora mi seguono anche se sono un pochettino non tanto presente sul canale va bene un bacione ciao ciao ciao